Ersato Mamma mia Se lo accarezzate la leggenda dice Che avrete la lebra La rabbia, la peste Bubonica e non E' veramente una bestia immonda Ma è molto interessante Perché si trova in un cimitero Quindi o è una bestia maledetta Forse un cane che rappresenta la morte Anche se non sembra così cattivo Anzi tutt'altro sembra molto tranquillo Molto felice anche Guarda come scodinzola Forse un cane molto solo Ma potrebbe essere anche un riferimento Al film Akiko Un film del 2009 In cui praticamente Questo cane non fa altro che andare Sempre sulla tomba del padrone Ed è una cosa che fanno veramente i cani Cioè quando il padrone muore Vanno sempre alla loro tomba Spesso, se questo è possibile chiaramente Se sa dove viene seppellito Mamma mia E' bello accarezzarlo però C'ha un muso veramente bruttissimo Perché è sozzissimo Vanno appunto ad accercare il padrone Sua tomba oppure lo aspettano Che torni Anche se non torna mai Perché i cani hanno Dei sentimenti Sono in grado di veramente Provare dei grandi sentimenti Per l'uomo Infatti non a caso è detto Il miglior amico per l'uomo E adesso andiamo a vedere Un qualcosa che in parte Abbiamo già visto Perché se vi ricordate Se tornate alla villa Dei Bright White E' possibile trovare No? Quel corpo carbonizzato E' anche possibile però Trovare questa donna Che se vi ricordate Era viva e vegeta Anche se un bel po' Ammalata Morta all'interno Di questo Di questa latrina Ecco Poveraccia ragazzi Perché se la sono dimenticata Qui evidentemente Ed è morta Adesso è solo uno scheletro Adesso vi metterò Anche Una clip Per farvi vedere La differenza Comunque Nel Uno dei primi episodi L'avevamo appunto Vista Qui Conta Senza nemmeno Rispettare l'ordine Dei numeri E' assurdo Quindi questo elemento Un ulteriore elemento Che avviene A seguito Della distruzione Della villa Dei Bright White Scusate Magari se ho fatto Lo spoiler A qualcuno Però alla fine Ormai dai Siete tutti Detopati Maniaci E quindi avete finito Il gioco Sono io in realtà L'unico che ancora Deve finire il gioco Perché non ce l'ha Comunque ringrazio Francesco Pratticelli Davide Framba Alex Di Giacomo E Giulio Pasquale Per le clip Di questo video Davvero Tanti collaboratori Dopati E quindi Questa è una bellissima Curiosità Questa matta Bright White Diventa Un povero scheletro Adesso ragazzi Passiamo Al prossimo Easter Egg Che non è un vero e proprio Easter Egg Però è una cosa Molto interessante Secondo me Ovvero Che è possibile Trovare Delle reliquie Diciamo Dei Dei cimeli Dei pirati Dei tempi Dei pirati Qui su Red Dead Redemption World Non a caso infatti Insomma i pirati Erano molto importanti A largo delle coste Degli Stati Uniti Tanti Tanto tempo fa Ormai Ormai sono passati Diversi secoli Da quando Era così E qui è possibile Trovare questa Incredibile spadina Per Tagliuzzare La carne di manzo Spada da pirata Spezzata Quindi non so Quanto sia utile Però Molto faiga Ed inoltre È anche possibile Trovare Un bellissimo Cappello Questo invece Molto più figo Perché è un bel cappello Magari di un capitano Dei pirati Magari di una sorta Di Jack Sparrow Sarebbe veramente Una grandissima cosa Adesso cerchiamo Di individuarlo In questi resti Di una nave Di una barca Che è naufragata Forse magari Con una tempesta Oppure semplicemente È stata abbandonata qui Ed è deperita Ecco qua il nostro Cappellozzo Incredibile Veramente bellissimo Veramente Dopati E la leggenda Dice che se voi Fate un po' di navigazione Con questo cappello Incontrerete anche La nave maledetta Di voi Sapete Chi Wow Infatti come vedete Piove Uno scenario apocalittico E il tutto si trova sempre In questa zona In questa zona Di isole Dopate Dove appunto Magari in passato I pirati Spadroneggiavano Magari era un copo Di pirati I pirati magari Venivano su quest'isola A rifugiarsi Pronti Per organizzarsi Ad altri Colpi Colpi dopati E adesso ragazzi Sempre Ne insegna un po' Della storia E del passato Andiamo a vedere Una tomba Molto particolare Una tomba antica Che si trova Esattamente qui Vicino a Roanoke Valley Un posto dove Bisogna dire Siamo stati diverse volte Per vedere Degli easter egg Easter eggs Anzi è plurale Qui vedete già Questo posto è veramente bello Vedete tutti questi resti Una sorta di catacomba Incredibile Addirittura pure Mezza labirintica Però molto facile Da risolvere E qui vediamo Vediamo veramente Tanti resti E questa è una tomba Che potrebbe sembrare Magari anche Una tomba Vichinga Infatti molti la chiamano così E sarebbe insomma Interessante Perché si dice Che i primi Ad essere arrivati Negli Stati Uniti In America Furono i vichinghi Dal nord Europa In quanto in passato Fra l'altro Anche i ghiacci Permettevano di Raggiungere a piedi Dall'Europa L'America E infatti Sono state trovate Anche delle tombe Particolari Quindi si dice Che ci sia questa possibilità Quindi non fu Colombo Ma i vichinghi E chissà Qual è la storia Comunque Quello che possiamo dire Che sebbene i vichinghi Magari ci fossero arrivati Non avevano capito L'importanza del continente Poi soprattutto Loro erano Nel nord America E non nel sud America Come il nostro Caro amatissimo Colombo Che dire ragazzi Io spero che Questo video Vi sia piaciuto In tal caso Lasciate un mi piace Commentate E iscrivetevi al canale Se non avete già fatto In descrizione trovate Un sacco di link Dopatissimi e utili Per seguirmi su Facebook Instagram Twitter Spotify E tutto quello che volete Se volete collaborare al canale Contattatemi in privato Perché Mi fa sempre molto piacere E sareste di grande aiuto E ci vediamo Al prossimo Video Ciao Ciao